Abbiamo una grande opportunità per allungare ulteriormente, però non ci può vincere tutte le partite, quindi ci teniamo stretti questo punto che ci fa allungare ulteriormente sulla terza ultima, quindi va bene così. È stata una partita tosta, al primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare un po' gli spazi, comunque loro sono una squadra forte fisicamente, hanno gamba e quindi anche nelle ripartenze abbiamo subito un po', però nel secondo tempo siamo entrati meglio, abbiamo attrato un po' il ritmo e magari abbiamo preso il gol nel periodo dove noi stavamo meglio. Poi siamo stati brevi a riacciuffarla e abbiamo rischiato anche di vincerla, comunque è sempre un derby, è stata una partita combattuta e va bene così. Il gol è importante, ci tenevo, ho fatto un po' di fatica oggi, forse un po' tutti, eravamo un po' stanchi, però va bene così, ogni partita ha una storia a sé, queste sono partite comunque difficili, è sempre un derby, c'era una grande cornice di pubblico, anche i tifosi ospiti. Sì, se no sto bene, sto lavorando, ho bisogno di allenarmi tutti i giorni per tenere la forma, ho avuto un paio di giorni di febbre questa settimana, ho faticato un po' a dire la verità, però sto sempre meglio quello sì.